Per la mano a Augusta, di sua maestà il re Vittorio Emanuele III, l'ente autonomo per lo sviluppo marittimo industriale e l'istituto delle case popolari di Roma, con la collaborazione delle cooperative di lavoro, ad offrire lieta e sana stanza agli artefici del rinascimento economico della capitale, questo aprico quartiere, fondato oggi, 18 febbraio 1920. Garbatella, o cara!